Ciao amici, sono in Trasalpina, ecco qua, cos'è il 18-9-2024, i lavori continuano alla grande e speriamo che mettono l'ampione. Sono in Trasalpina, hanno messo, guardate, in marciapiedi, tutto bello regolare, guardate, guardate, sono in fase di conclusione, io spero, no? Perché guardate un po', adesso una mi ha chiesto, ma per andare in Trasalpina, gli ho detto, devi fare il giro dall'altra parte, dove la famosa passarella per via San Gabriele, ecco, questa è la Trasalpina, signori, trincerata, speriamo che si sbrighino perché ormai mancano pochi mesi, pochi mesi e chiudiamo qua il servizio. Guardate un po', mi sono messo con la scala, vediamo fino laggiù in fondo, vedete, eccolo là, adesso si avvicina, vediamo se riesco ad allontanarlo, sì, eccolo là. E questa è la Trasalpina, cari amici, chiudo qua, guardate che bella, speriamo che mettono anche le luci però, chiudiamo. Bene, i lavori continuano, speriamo che metteranno anche i lampioni, si spera, ciao a tutti.